Radio Stuni News le notizie di Radio Stuni Un nuovo incidente ha scosso la comunità di Rosa Marina un individuo non consorziato successivamente dichiaratosi ospite di un consorziato ha cercato di forzare la sbarra d'ingresso senza possedere la tessera necessaria nel tentativo ha anche cercato di investire una guardia che fortunatamente è riuscita a bloccarlo con l'aiuto dei colleghi questo episodio si aggiunge a quelli incrisciosi che si sono verificati negli ultimi tempi all'interno del consorzio di Rosa Marina suscitando preoccupazione tra i residenti e la vigilanza il consorzio fa sapere che sarà determinato a prendere iniziative non escludendo il ricorso ad azioni giudiziarie per tutelare la sicurezza di tutti i residenti Polizia Locale di Ostuni senza il suo comandante a seguito delle dimissioni di Luigi Muci L'opposizione interviene chiedendo la massima trasparenza su questa vicenda ed evidenzia come la nomina del nuovo comandante non possa avvenire in un clima di così poca limpidezza gli stessi hanno lamentato un perdurare silenzio da parte dell'amministrazione è lecito pensare scrivono che il comandante Muci abbia sollevato questioni talmente importanti che la maggioranza fatica a rendere pubbliche tutti i consiglieri di minoranza si augurano che la scelta non ricada per attribuire un premio alla carriera o per mantenere equilibri politici Subito dopo è arrivata la risposta del sindaco Angelo Pommes che ha voluto chiarire gli aspetti legati a questa vicenda Non vi è alcuna questione di carattere pubblico che l'amministrazione stia cercando di nascondere scrive il primo cittadino La nostra priorità è garantire che ogni azione sia in linea con gli interessi della comunità Il bando per la nomina di un nuovo comandante sarà gestito con la massima serietà e attenzione L'obiettivo dell'amministrazione, conclude Pommes, è selezionare un professionista qualificato in grado di guidare la polizia locale in modo efficiente e trasparente Oggi è un giorno speciale per noi di Radio Stuni Il maestro Rosario Bruno compie gli anni Noi tutti siamo felicissimi di augurare a lui e alla sua consorte Giovanna tanti momenti di felicità e benessere Per i più giovani ricordiamo che Rosario Bruno è l'autore musicale della famosa canzone Stune Mia e il fondatore della nostra amata emittente locale Radio Stuni Negli anni 60 e 70 ha formato numerose band locali facendo innamorare tante generazioni con la sua musica Grazie Rosario per il tuo talento, per la tua passione e per il tuo contributo indimenticabile alla nostra comunità Buon compleanno Autonomia differenziata, una legge spacca Italia è l'evento organizzato dal PD di Ostuni in collaborazione con l'associazione Gli Amici del Cuore presiduta dall'assessore ai lavori pubblici Angelo Brescia Il convegno si tiene questa sera alle 20 presso il Chios a Villanova alla presenza degli amministratori locali degli europarlamentari Stefano Bonaccini e Antonio De Caro e del presidente della provincia e sindaco di Mesagne Toni Matarelli Modera il giornalista Francesco Gioffredi Questa sera alle 20.30 il Chiostro San Francesco ospita il premio Pagine di Vita promosso da Giampiera Quartulli La serata sarà condotta da Giussi Santomanco, Angela Anglani, Caterina Andriola e Giorgio Specchia La direzione artistica è a cura di Piero Lapenna L'edizione di quest'anno è stata presentata in conferenza stampa Il servizio Siamo alla quindicesima edizione del premio Pagine di Vita Da quando ero ragazzina avevo come un moto insurrezionale per il fatto che in Ostuni la cultura ufficiale premiava, commemorava, celebrava quasi sempre gli stessi personaggi e allora io partendo da un episodio Lillo Zaccaria di Radio Ostuni, li conoscete bene mi chiamò una domenica per leggere una poesia fatta da un signore di Ostuni in vernacolo sul personaggio ostunese Stefano Quartulli che era mio nonno e allora io da lì ho con Lillo Zaccaria inventato questo programma che andava a cercare a ricercare quei personaggi straordinari che ha Ostuni e che ha avuto Ostuni in passato ma che il mainstream trascurava, metteva da parte e a volte dimenticava Questo è lo spirito del premio, così nasce il premio Pagine di Vita per dare merito e onore al ricordo di alcuni personaggi ostunesi naturalmente straordinari Non andate via perché ci saranno degli ospiti variegati e interessanti Sono emozionata, questo premio rappresenta la cultura ostunese, rappresenta la tradizione vengono premiate le eccellenze, vengono valorizzate le competenze in tutti i settori L'anno scorso mi ha visto in veste di premiata quest'anno per la proprietà che si va sempre o su o giù quest'anno io sono stata reclutata dall'inossidabile Giampiera Quartulli alla conduzione, ci sono tantissime novità Ormai sono sei anni che partecipo a questo meraviglioso premio sono stato premiato quattro anni fa da lei e con entusiasmo in questi anni ho dato il mio supporto quest'anno ci sono parecchi ragazzi, cantautori, musicisti di conservatorio Per me è sicuramente una grande emozione, un grande onore partecipare al premio Pagine di Vita Per la prima volta mi vedo alla presentazione grazie all'invito di Giampiera a cui non potevo assolutamente dire di no ho partecipato a questo premio come ospite con la mia associazione teatrale per ritirare il premio a nome di mio zio il senatore Pino Specchia nel momento in cui ho scoperto di essere affiancato da tre meravigliose donne Angela Angrani, Caterina Andriona e ormai la veterana avvocato Giussi Santomanco beh l'emozione è forte, spero di essere all'altezza Giampiera so già che mi dirà lo sarai certamente e per te lo sarò certamente uno spettacolo, una rassegna, un palinsesto che richiama alla memoria tutti i personaggi storici del nostro comune, del nostro paese che hanno contribuito a far sì che Ustuni diventasse quello che è oggi ritengo che l'attività svolta da Pagine di Vita è il messaggio che i veicoli siano molto importanti all'interno del nostro contesto sociale perché naturalmente le tradizioni, la memoria e il ricordo di coloro i quali hanno contribuito fattivamente in maniera utile alla crescita economica, sociale, culturale soprattutto di una realtà siano sicuramente da tramandare ai ragazzi e alle giovani generazioni Ogni anno l'8 agosto viene celebrata la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo volta a onorare il sacrificio di molti italiani emigrati all'estero Questa data ricorda la tragedia di Marsinel del 1956 in Belgio dove persero la vita 262 minatori di cui 136 italiani Il loro sacrificio ha spinto le istituzioni italiane a creare leggi per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori Oggi domani alle 21, dodicesimo appuntamento con la rassegna Giardini Animati Teatro in Pineta organizzata e promossa dall'Associazione Teatro Folletti e Fogli di Ostuni In scena mai nate di Tommaso Urselli, regia di Dario Lacitignola Con Tonia Argento e Renza De Cesare Info e prenotazioni al 347-598-6360 50 anni di amicizia a Dostuni per il Movimento Cattolico Pumunione Liberazione Terzo appuntamento in collaborazione con l'Associazione Acquero presso il giardino del Centro Culturale Donato Cirignola in Corso Mazzini ad Ostuni Questa sera alle 21 Cosa sarà che dobbiamo cercare? Serata di canti nel ricordo dell'ostunese Giovanni Moro venuto a mancare poco più di un anno fa Questa sera è in programma ad Ostuni a partire dalle 21 una serata dedicata alla storia di Domenico Modugno presso la terrazza sulle rupe in Contrada Chianchizzo L'evento ha l'obiettivo di ripercorrere i più grandi successi del celebre artista Il tributo a Domenico Modugno sarà tenuto da una band composta da musicisti di rilevanza Beppe Bonzante Voce, Oscar Marino Batteria, Vito Carella Pianoforte, Andrea Patruno Basso e Carlo Rosavio Chitarra Info al 345-665-3015 Ostuni 2 Live 2024 Vivi la città con visite guidate escursioni in biciclette e degustazioni di prodotti gastronomici del territorio Oggi alle 19 in programma una degustazione di vino a cura delle aziende a marchio Parco Dune Costiere presso il Chiostro San Francesco L'attività è gratuita Info allo 0831 198 24 71 La farmacia Dalò effettua quest'oggi il servizio pomeridiano e notturno a Villanova Marina di Ostuni aperta tutti i giorni la farmacia Santoro Meteo, cieli sereni e poco nuvolosi venti deboli, temperature massime fino a 34 gradi mare poco mosso Citazione odierna L'unica donna che è sicura dove sia il marito è la vedova Grazie per aver preferito la nostra informazione